Sono Frate Loreto, mi trovo davanti alla Basilica di San Francesco, ormai è famosa in tutto il mondo. Vi invito nel nome di San Francesco di fare questo sms a questo numero 45501 per le nostre missioni. A chi aspetti, fallo subito. Grazie, pace e bene. Signor Padre Giuseppe, vi invito a fare un sms per le nostre missioni. Aprite il cuore alla generosità. Sono Fra Maurizio, vi saluto tutti. Anche io mi unisco all'appello di fare un sms al 45501. Grazie, ciao. Carissimi amici, molti di voi mi conoscono perché sono all'ufficio matrimoni. Per dono di Dio ho potuto batteggiare tanti bambini e anche celebrare tanti matrimoni. Invito tutti voi, carissimi amici, a dare un contributo per questo grande avvenimento nel nome del cuore che va a favore dei bambini, delle persone povere. Il numero è 4551. Siamo generosi e il Signore sarà generoso con noi. Pace e bene. Come Francescano, Francesco amava tanto i poveri e ha fatto anche il voto di povertà. Però la sua povertà era una vera ricchezza perché ciò di cui disponeva, del suo pace e bene, era per tutti. E soprattutto per i poveri, per i più lontani, per i più bisognosi. E anche lui si è messo in cammino ed è andato fino in Terra Santa, fino in Egitto, per incontrare i nostri fratelli poveri dell'Africa e dell'Asia minore e dare il minimo che poteva dire pace a voi fratelli, pace e bene e insieme al pace e bene anche qualche pezzo di pane o anche un po' di stoffa per vestirsi e ripararsi dal freddo. Vi invito anche tutti voi a fare un gesto di solidarietà con un sms al numero 45501. Grazie. Sono del convento, Sacro Convento Adassisi. Vorrei fare un appello alla solidarietà ai poveri. Fate un sms al numero 45501. Grazie. Grazie.